Sono Elenia, ho 22 anni e sono un'ostetrica. Ho scelto MyClass perché avevo bisogno di imparare in breve tempo l'inglese e raggiungere un buon livello. Grazie all'Apple ho la possibilità di prenotare la mia lezione fino a un minuto prima. Le lezioni sono molto interattive, c'è la possibilità di interagire direttamente col professore e di avere un confronto continuo. Il metodo è veramente eccezionale. Grazie a tutti.